signori guarda dove siamo siamo di nuovo su the forest dopo tantissimo tempo che che non lo portavo e non l'ho portato per il semplice fatto che mi ero intrippato con altri giochi ovvero atomic art ghost dragon breakpoint dovremmo ancora continuare borderland 2 cazzo puoi iniziare il 3 ma c'ho tanti di quei giochi raga ma dopo questi giochi che finiremo inizierò un paio di giochi molto vecchi che sono dei ricordi della mia infanzia e devo per forza farli ragazzi sti cazzi sti cazzi spero veramente che se ve li faccio vedere ragazzi sono dei giochi per me che meritano secondo me dei remake comunque ci troviamo a casa nostra e in vostra assenza tanto mi scuoio il coniglietto con il nostro Geraldo che lo osserva con grande con grande ruè ehi coso caffè è fottoso allora per i coglioni vedi che devi d'accordo e comunque ci troviamo a casa nostra dove ho costruito una torre di guardia una torre di guardia qualche recensione migliorata anche qua ho fatto un po' più largo il passaggio qua che era per bruciare i bastardi indemoniati da satana e niente la nostra casa rimane sempre questa nell'ultimo è stato aggiornato il gioco e hanno pure aggiunto un paio di robe più che altro a livello di nemici e zone accampamenti cannibali un nuovo boss in teoria e hanno aggiunto l'unica costruzione questo qua finalmente il gusto di tartaruga serve a qualcosa questo qui è un raccoglitore di acqua piovana quando piove vi si riempie avete una scorta d'acqua molto utile quando avete metri e metri cubi di lago davanti a voi molto utile detto questo non saprei non saprei onestamente dove andare in questo episodio perché c'eravamo diciamo bloccati prima però di andare adesso vi spiego prima di andare vorrei mettere un po' di carne a cuocere cioè a essiccare siccome non ho bastoni ne prendo un po' da qui dalle mie scorte ho fatto lavorare il nostro geraldo ho fatto lavorare come un bastardo per raccogliermi quanti più bastoni possibili e adesso ci costruiamo un altro essiccatore che lo mettiamo praticamente di fianco eccolo qua metti così lo costruiamo perfetto e ci mettiamo madonna la non mi fare bestemmiare the forest the forest placati allora e mettiamo tutta la carne che abbiamo e i due pesciolini incredibili abbiamo tre pesciolini allora uno è arrivato il momento di cuocerlo piccola bestia come mi sembra di aver capito io ho sicuramente dimenticato qualcosa dico sicuramente perché perché diciamo insomma mi ero bloccato ho dato un pochino un'occhiata in giro per youtube qua ho fatto comunque due trappole una efficacissime direi guardalo lì guarda quanta carne minchia nel frattempo mi si sta carpannupisce probabilmente occhio che c'è la trappola gesualda allora dai prendi il pes- no vabbè ma è ah no ma non era questo il pesce ho preso il braccio eh se me lo fai è cotto si si è cotto aspetta ho preso pure un braccio di merda bene quindi stavo dicendo noi come cazzo si apriva la mappa ecco evidentemente ci siamo dimenticati qualcosa dovrebbe esserci sul punto praticamente dove cazzo è eh mi sa che è da questo lato o da quell'altro lato si si è proprio davanti a noi da questo lato molto lontano praticamente nel bunker dove abbiamo trovato la katana bene in quel bunker dovremmo trovare anche un altro oggetto che dovrebbe essere un'armatura dorata per come ho capito questa armatura dorata è poi quello che ti serve per proseguire sulla storia quindi mi tocca riandare lì e esplorarmi per bene quel posto recuperare l'armatura in tutto questo io mi sono pure eh ho posato un bel po' di roba ho posato tanta roba in poche parole qua c'è un'armatura inquietante un'armatura d'ossa così tattica quante cazzo ne ho? uila ho posato un bel po' di roba e in modo che possiamo raccogliere un mare di cose una volta che arriviamo nell'aria infatti non ho barrette non ho cibo non perché le ho finite ma perché le ho posate hai capito a cui chi comanda hai capito di chi è la casa no? l'hai capito stronzo di merda eh stronzo di merda l'hai capito qua che è casa mia tu devi andartene tu che minchia fai da maccia? che l'ho preso fai via cicchissi aia c'è pure l'altro aia ehi tutta l'armatura pelato di sto ca ho finito le frecce perdonatemi perdona no no non posso spartare qua perché perché non posso a mali estremi mia nonna diceva estremi rimedi la destinazione dovrebbe trovarsi lunga sta roba dovrebbe essere tipo da quella direzione molto lontano dove dovremmo andare però in teoria parliamoci chiaramente potremmo provare a esplorare un pochino le caverne le caverne quelle dove magari siamo già stati perché comunque con questi aggiornamenti che hanno aggiunto nuovi boss nuove cose io presumo si trovano comunque all'interno di caverne e magari molte caverne che prima vuote magari l'ho fatto cadere pure se era in difesa attenzione senza un minimo di rispetto eh cagare guarda lì magari oddio hai rotto i coglioni però non vorrei dire piangi sto paio di cazzi eh cagare prima mi ha attaccato ah fa culo quindi magari le caverne che prima erano inutili magari adesso le hanno un pochino riempite di roba un'altra cosa non mi equipaggio il fucile sul 3 ma questo l'arco è sul 2 e al posto dell'ascia dato che attualmente non siamo a casa mettiamo la katana in questo modo abbiamo l'arma secondo me da mischia più potente quindi vedete tipo il lago che abbiamo davanti ecco magari lì c'è adesso qualcosa in più di aggiunto l'unico modo che abbiamo per scoprirlo è entrarci ed esplorare perché the forest gira su questi bunker e caverne se non c'è niente qua io onestamente non so dove minchia cercare tanto ci vengono di passaggio perché noi dobbiamo superare fare il giro dall'altro lato come vedete già iniziamo a vedere proprio all'estremità nord iniziamo a vedere già la nostra caverna è proprio lì che dobbiamo andare guarda qua tipo questo qui è uno spawn di corde assurde raga se uno si fa una casa qui è capito ci sono dei punti strategici secondo me qua a parte essere un bel posto sei in un lago con la cascata magari ti fai poi delle funicolari che passano lì ti spawnano due robe questo è un buon punto per fare un accampamento io ormai vabbè ormai l'ho già fatto onestamente mi secca rifarlo queste cose però fatte magari con un amico è molto diverso perché meno male siete in due se non avete un compagno come Jackson come nel mio caso che quando fate una roba non è che è una cosa condivisa ognuno la sua casa ognuno il suo gesso ognuno il suo letto ognuno quando fondamentalmente non serve a un cazzo tutto questo perché siete due sopravvissuti qui da un disastro in elicottero a giocare con Jackson comporta questo questi gran cazzi e adesso spero veramente che dopo tutti questi aggiornamenti e aggiunte che hanno messo di vari boss di vari nemici e cose indigene mi auguro che le caverne prima inutili perché già parliamoci chiaro sono pingate sulla mappa e c'è soltanto una grotta e dentro delle corde stessa roba che puoi trovare in giro per gli accampamenti oppure tipo lì sulla cascata c'era un mare di casse c'era più loot addirittura di quello che troveremo qua dentro per come mi ricordo che non c'era un cazzo quindi secondo me o le hanno modificate vediamo i komodo che abbiamo entrare e non rompere più raga eh no non c'erano questi sembrano tipo dei monaci gente comunque di chiesa con un libro allora vedete che hanno aggiunto parti di lore no parti di storia sembrano tipo dei non lo so gente spirituale ma che non sembra nemmeno da tanto tempo qua questi sono morti freschi eh e qua non mi ricordo che era barrata no raga qua abbiamo scoperto la vita che bello averci messo la vita significa che questa serie potrebbe avere una durata eh si che si è cambiata raga minchia si è cambiata qua non c'era un cazzo raga qua dentro c'era mi ricordo vuoto e e poi c'era forse non lo so due cassettine così vuole minchia era la torcia e non era mica così oh bombole di ossigeno però siamo full eh però mi sa che è rimasta comunque vuota vediamo quanto qua mi apro le case cibo in scatola ecco io avevo pure fame e ha una botta lo mangio perché l'ho trovato dove l'apri scatole eccolo qua qua si trova un respiro no oh no raga e allora qui era completamente vuoto e loro guarda cosa mi hanno fatto qua c'è un buco per andare sott'acqua questo prima non c'era siamo in un nuovo punto questo significa che quello che abbiamo controllato possiamo ripercorrerlo quindi rendendo il gioco nuovo tutte le caverne a parte una era chiusa guarda qui questo è stato ucciso così e a giudicare dal fatto che sono scheletri penso sia qui da tanto tempo meno male che abbiamo i respiratori siamo messi bene di risorse di roba ci stiamo andando già attrezzati quindi meno male le difficoltà possiamo affrontarle hanno aggiunto se non sbaglio anche nuove creature no no raga the forest continua ero in dubbio se concluderla perché non sapevo dove andare onestamente ok ho fatto fuori uno ce ne sono altri lì ce ne sono altri due prima che mi vedono vediamo se riesco a scugliarlo così ci attrezziamo di armature inquietante e via strozzo demone allora vi fa piacere comunque che the forest vi piace ragazzi vi ricordo sempre se volete supportare per un minimo il like gratuito mamma mia qua si scende ma c'era anche un'altra entrata dall'altro lato aspetta io entrerei prima qui che mi sembra forse più invitante di scendere negli inferi ah infatti si ferma non mi dire che qua ci sono gli oggetti della vita intanto abbiamo trovato delle batterie delle medicine ma soprattutto qua c'è il cadavere di uno dell'equipaggio nostro dell'elicottero le batterie ci servono un sacco io ho molte di queste le ho pure posate a casa oddio eh minchia siamo proprio in discesa porca puttana madonna laica che cazzo siamo non si torna più indietro molte volte the forest collega le caverne fra di loro quindi magari esplorandone una possiamo riuscire a collegarci a collegarci ad altre caverne è in acqua sembra che non si va da nessuna parte sembra che devo salire da qui un altro monaco ma non è il simbolo dell'inizio è tutta una nuova caverna raga quando ho visto questo simbolo mi ricordava la prima caverna dell'acqua qua c'è un monaco penso sono loro che veneravano qualcosa una lattina tattica ma che siamo messi proprio benissimo possiamo farci niente pieno di monaci venuti qui non si sa come non si sa perché ma tutti che l'hanno presa nel culo e questo è morto lì c'è l'altro e vai a cagare perfetto eh questi qui quello era più forte non lo so se è un bug assicuriamo di farli fuori tutti e poi ci mettiamo le armature tattiche oddio questo è qua meno male che non mi ha preso oh quanti sono? è uno? sì già stiamo giocando da dio mamma mia questa caverna è proprio grande ma mi sa che qua però torniamo indietro è un giro inutile esatto ritorniamo da lì quindi c'era questa qui ma penso si ricolleghi a questa esatto quindi è una la strada mettono queste cose per confondere qua diamo un'occhiata anche sott'acqua l'espiratore fa un mare di luce cazzo peccato che what? chissà se noi se questa cosa l'hanno aggiunta o non c'eravamo mai stati io mi ricordo di averle espirate tutte medicina siamo full batterie dammele i bengala e dobbiamo proseguire ma questo qui sembra quello un portone tipo eh delle mura forse più che un portone non mi sembra una porta e ancora proseguono queste mura se sono delle mura avranno un portone comunque cos'è sta roba nooo del demonio c'è eh aspetta aspetta vai via eh lo uccido così raga lo uccido così per adesso poi mi mi metto il pompa mi metto il pompa perché spreco troppe munizioni quanti colpi abbiamo della pistola 35 male del pompa 46 e 42 si spreco molti meno proiettili in più scuoia ma mai questi qui proprio fanno venire la pelle dunca ma ma sbaglio non vedo un cazzo io questo non so se il respiratore proprio non vedo niente oddio eh cagare predato eh ce n'è un altro anche se anche se mi da l'impressione che con loro oddio siano un po' sprecati sti colpi ma comunque mi posso sbagliare raga ma tutto questo è stato aggiunto anche perché non era lontano vedi che lì c'erano pure le funi vie perché noi c'è le le corte che abbiamo fatto per scendere in quel passaggio lì e quelle lì li avevamo messe perché eravamo venuti da lì grazie per la granata eravamo arrivati appunto noi da lì non vedendo nulla poi siamo scesi verso l'altra caverna del fiume comunque qui c'è tutta questa che non saprei come definire eh comunque una struttura eh semi sommersa e io questa torcia raga più la uso più non vedo un cazzo ho capito cos'è però mi sembra che questo eh coso questa struttura di ferro sia fatto con quel materiale lì magari lavorato perché sembra sembra che hanno lo stesso colore quindi non lo so magari sarà un minerale ultra resistente ha una video grazie del follower mi sono cagato sia per l'alert mi è arrivato un follower su twitch mentre registro dai vergogna ah sono tornato in diet mamma mia ma io orientamento veramente pessimo deve esserci per forza un altro passaggio qua acqua continua aspetta raga perché qua c'è un fiume che continua qua c'è intanto quello brutto quello molto brutto buon uomo no lei mi si deve morire subito su ste cose ok c'è un altro che è morto un altro ancora che non è morto c'è pure quello lì diviso ricarica siamo un po' nella merendola dov'è oddio fatto ok mi rimane solo quello a due che è lì a quanti problemi level pompa noi ridiamo scherziamo qua parliamo di pro player non parliamo di gente a caso qua se tornava indietro c'è questa parete stra luminosa e qua ula quattro pallettoni altri no vabbè qua abbiamo recuperato l'unica cosa che mi chiedo è perché questi qui che erano dei semplici monaci vengono qui con i pallettoni e non si trovano armi a terra questa qui è una cosa un po' a cui non si può dare una spiegazione logica perché capisco quando trovi a meno che abbiano trovato le armi dalle stesse persone morte in elicottero quindi noi la nostra squadra allora adesso qua c'è un passaggio però lì c'era pure un passaggio del fiume ma magari fa il giro e andiamo di qui per adesso che avendo all'uscita quella specie di di forma con i minerali che fa luce abbiamo un minimo di orientamento e non mi pare mi sa che si colleghi a quell'altra ok di qua probabilmente si esce quando c'è il fosso così si esce dalle grotte quindi tornerei indietro comunque una cosa è sicura raga i bunker sono delle strutture fatte da dai pafton quindi da gente ultra miliardaria che costruiva questi cosi come meta turistiche come sito di di scavi di studi per trovare questi artefatti e roba così questo qui però tutte queste strutture che vediamo qua con questo minerale vedete questo non mi sembra minimamente una roba fatta da qualcuno per niente anzi sembra molto antica e forse chi lo sa magari è proprio questo l'artefatto che loro cercano però ci siamo tolti un dubbio enorme raga ovvero il dubbio che fai o male dice ma cioè che cazzo devo fare adesso andare ad esplorare è molto più divertente perché per raggiungere i punti che ci servono a noi possiamo passare da queste caverne e ancora scoprire cose nuove sono più veloci dai placati però ma qua continua sta grotta hanno semplicemente delle casse del filo e poi corde che siamo full da anni e poi soltanto dritto allora sei bastardo no minchia fail qua ancora va sott'acqua ma sei stronzo e sott'acqua cosa c'è eh non lo so o mi metti un'uscita o mi metti qualcosa di utile che poi ragazzi stavo pensando stavo pensando una roba adesso vi dico un attimo al tempo che è di orientarmi qua che già io e non so se è un'uscita però ragazzi se è un'uscita stiamo uscendo dall'acqua ok si risale oddio 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 che cazzo sono è un demonio aspetta avevamo trovato in qualche episodio precedente la cosa della 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 croce fammi vedere se funziona ce l'ho qui oddio vai via demonio oddio non ci credo vai via satana vai via coso cafete ah cicchissi il demonio sei un demonio manchia sono dei demoni raga vai via come ti permetti brucia brucia demone brucia brucia demone oddio non mi attaccare che mi fa impressione non ci credo raga non ci credo li abbiamo veramente uccisi con la croce e non ci attaccano what what perdonami però se mi entri nella parete oddio si si questo è eccitare guarda è morto pure quello no vabbè raga con la croce io guarda io ne approfitto siete pagatissimi lo scuoio tutto e mi sa che scuoio un paio di cazzi ecco come ti permetti demonio tu sei stato invocato sei stato invocato dal male Gesù Cristo segui la via segui la via brucia alla luce divina era sempre una minchiata ma questo è un risparmio di munizioni raga questi erano belli resistenti se avessimo sparato comunque pompa almeno 15 colpi sarebbero volati oddio vai via che schifo immonda creatura attenzione raga bello bello raga io vorrei ringraziare se sei arrivato a questa parte del video salto felino che mi ha fatto ritornare la voglia di continuare The Forest grazie BRO grazie BRO ma questi sono tipo questo è morto tipo da da preghiera da supplicare qualcosa ma l'armatura armatura d'oro raga che culo si può trovare anche in altri no raga sono troppo felice sono troppo felice sono troppo felice di aver trovato l'armatura d'oro perché noi volevamo andare in quel bunker per trovare l'armatura d'oro invece c'era anche un altro spawn che magari hanno aggiunto anche ora se questa caverna prima non esisteva magari questo spawn l'hanno aggiunto pure ora e abbiamo trovato l'armatura d'oro che è quella che ci serviva a noi eh eh vedi che c'era questa torcia che puntava lì a caso mamma mia abbiamo l'armatura d'oro siamo full armor comunque penso la mette sopra quella inquietante non ho ben capito abbiamo fatto l'esplorazione della vita qua ebbè quanto cazzo finisce comunque siamo giunti al termine però il fatto di aver trovato l'armatura d'oro cambia la nostra destinazione non dobbiamo più andare lì ancora continua tutte ste strutture qui che non ho ben capito ancora sale no accetti scatto che non me le posso portare dietro queste cose fanno un mare di luce vediamo se abbiamo qualcosa di energetico qua prendi una barretta e qua è pieno di bimbi sudaticci fatto fuori uno questi si stanno preparando alla carica escezioni ancora tu sembri stronzo decisamente stronzo vabbè no 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 fermi tutti fermi tutti sono un coglione sono il re dei coglioni no raga l'armatura d'oro non ti protegge dai danni no ci credo mai nella vita raga no morire così mi rompe i coglioni a me raga e qua dovrebbe esserci il bastardo di prima meno male che non ci ha fatto spawnare chissà dove guarda questo qui è tipo luminescente è più forte degli altri no senti tu mi hai rotto proprio i coglioni comunque vedi vedi come ti resisti a un colpo no è più decisamente più forte due colpi di pompa raga è tipo era luminescente guardate guardate al buio non so se rende youtube ma io lo vedo al buio così si illumina e vabbè stiamo attenti raga perché se moriamo veramente bestemmio chiudo l'episodio devo rifarmi tutto io non so se farmi un accampamento qua ma siccome penso che a breve si esce e quindi vorrei uscire e poi farlo davanti la caverna voi non avete idea quanto vorrei fare un bel falò e mangiare però per adesso mi accontento certo qua se dobbiamo risparmiare per bene andiamo di arco ovviamente però è vero anche che uno è bello usare queste armi due dato che non abbiamo salvato ancora preferirei non rischiare e poi è figo diciamo usare le risorse cioè alla fine ce lo possiamo permettere attualmente non voglio abusarne perché comunque ci sono dei boss in questo gioco quindi presumo che poi con i boss non andremo ad arco ma buongiorno giacomo lei come sta tutto bene vai a cagare per i coglioni non mi guardare così con quegli occhi che non hai mi sa che abbiamo fatto un passaggio per tornare indietro però non penso siamo passati da quella struttura per me ci sono altri scheletri come una oh vi ricordate la poltrona con lo scheletro seduto e allora questa è un'uscita ragazzi siamo ricollegati dall'altro lato quindi sono due caverne che si collegano dammi le monete filo cibo in scatola stoffa in quantità industriale vi ricordate mi pare mi pare di averla di averla mostrata quindi questa è l'uscita perfetto ed è notte madonna mignota salva dormi risalva è perfetto ragazzuoli perfetto beviamo un po' d'acqua e facciamo il riepilogo della situazione ci salutiamo allora siamo entrati in una grotta togliti sto respiratore però per cortesia mi fai salire siamo entrati in una grotta che praticamente è ah ma tu guarda noi siamo entrati nella grotta che abbiamo sopra sulla mappa e siamo usciti direttamente da da qui quella prossima che volevo esplorare quindi direi bingo bene nel prossimo episodio andremo ad esplorare altre grotte e vedete hai rotto il cazzo però hai rotto troppo il cazzo renditene conto nel prossimo episodio andremo ad esplorare altre grotte e vediamo cosa si cela soprattutto lì sulla neve vedete che ce n'è un'altra secondo me lì c'è qualcosa di utile quindi prossimo episodio andremo lì ciao per le mie ciao